Oggi andremo a visitare Girocastro, una città situata nell'entroterra albanese e famosa perché nacque il dittatore Enveroxa, luogo dove ora la vecchia casa di Enveroxa è stata alibita a un museo. Qui ci troviamo nel museo etnologico di Girocastro. Ovvero anche la casa dove Enveroxa nacque. Questo tavolo rotondo che vedete è la musanza tipica albanese radunarsi tutti gli ospiti e sedere attorno a questo grande tavolo. Qui ci sono molti elementi tipici della tradizione albanese. Come per esempio i vestiti tradizionali, le case che vengono predisposte. Papucci Gucci. Papucci Gucci. Dopo aver finito il giro nel museo etnografico ci avviamo verso il castello di Girocastro. Siamo entrati nel castello di Girocastro e abbiamo pagato un ticket di 5 euro. museo molto bello perché aveva all'interno tante armi della guerra e veramente il castello in sé era veramente molto interessante. Pieno di stanzette che erano usate come prigioni. e quindi Grazie a tutti Grazie a tutti